Allora il coniglietto addentra il cappello dello zio e comincia a correre velocissimo verso il vialetto Ma dai! E poi? E poi, Sabrina strappa la balestra dalle mani di... come si chiamava quel tipo? Insomma, prende questa balestra e... Ciao ciao coniglietto! Beh, il resto lo sapete Sabrina, sei impagabile Ah, che giornata! Puoi dirlo forte! Ma che sono questi spari? Caccia alla volpe Susanna, ho capito bene una cosa Al matrimonio di chi eravate? Di Elena e Sandra, bella coppia Ma perché tu ed Elena vi conoscete? Diamine, mia madre e sua madre sono cugine Aspetta, aspetta, tua madre? Ma allora io e te siamo parenti Ma dai! Eh? Eh sì! Eh sì, il padre di Ezia è il cugino della sorella di Elena E' proprio così, sì Ma senti questa cosa, ma... Ma allora anche Leandra? Infatti ci stavo pensando Allora, Ezia e io abbiamo in comune uno zio da parte di mamma Lo hai conosciuto anche tu, no, Marcello? Ahah, lo zio Catano Sì Allora, dunque dunque, fammi un po' pensare Ma sì, ti spiego io Tu sei la nipote di secondo grado della nonna di Elena La quale a sua volta è la cugina del nonno di Carlo Quindi? No, 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 no. Cosa? Fabrino, cosa? Tu sei mia madre! Carlo! Carlo, non fare pazienza! Carlo! 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 Dijon, mio figlio! No, non. Cosa, cosa passa? No, non! Carasco! Je t'ai usually bestial. We're just getting back. I never thought of this thing, janta! I thought it was like a man. All this time, if you want to talk to me, I want you to know that I'm in love! Grazie a tutti.